Questa sera riprende l'attività dei Waves Riviera dei Fiori, una squadra che si era costituita negli anni 80, che ha giocato campionati fino al 94-95, ora abbiamo ripreso, rifondato la società. Questa è la prima partita di un campionato a 9 organizzato dalla IAFL. Abbiamo una serie di ragazzi giovani che hanno dimostrato una grande passione, per cui ci siamo lanciati in questa piccola avventura, sperando di riportare onore al nome dei Waves Riviera dei Fiori. Le ambizioni in questo primo campionato sono di far crescere i ragazzi, farli fare esperienza, stiamo lavorando per il futuro, per il prossimo anno e stiamo crescendo piano piano. Non abbiamo ambizione di vittoria in questo momento. La partita di questa sera è una partita molto impegnativa, perché la squadra avversaria sono i lancieri di Novara, sono una squadra costituita da ormai parecchi anni, sono ben organizzati, più di 4-5 anni che giocano tutti insieme, per cui la prendiamo come un'esperienza dura ma interessante. I prossimi appuntamenti abbiamo trasferta ad Asti la prossima settimana, poi ci sarà una settimana di pausa e poi incontreremo a marzo la squadra di Asti qui in casa a chiusura della stagione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.